salve a tutti crononauti e bentornati su spazi attorcigliati io sono sempre davide e oggi sono qui per raccontarvi uno dei vari modi in cui la gravità rompe le uova nel paniere della teoria quantistica dei campi per discutere la questione nel dettaglio dobbiamo come sempre fare prima un passetto indietro e ripeto questo è il nuovo motto del canale abbiamo finalmente un motto in apertura un motto in chiusura arriverà il merchandising adesso il mio cervello via torniamo a noi la prima cosa che vi devo raccontare è una questione legata alle scale di lunghezza quando parliamo di scala di lunghezza in fisico parliamo in fisica parliamo letteralmente di misure di lunghezze tipiche dei fenomeni di cui vogliamo parlare quindi quando parliamo di una teoria alla scala di un centimetro stiamo parlando di quelle interazioni fisiche che tipicamente emergono o sono dominanti alla scala di un centimetro in una certa teoria quando parliamo di una teoria a una scala di un metro stiamo parlando di quelle interazioni quei comportamenti quei fenomeni che caratterizzano la teoria quando la si guarda in un sistema che ha più o meno una lunghezza tipica di un metro quando due particelle sono più o meno un metro di distanza e così via uno dei compiti della fisica delle alte energie adesso capiremo anche la ragione di questo nome è ovviamente quello di studiare la fisica a scale sempre più piccole e nel mio linguaggio quindi passare dalla fisica classica alla meccanica quantistica quando parliamo di particelle dall'elettrodinamica classica all'elettrodinamica quantistica e poi a cose più raffinate al modello standard e poi infine alla gravità quantistica quando ci arriveremo speriamo non presto altrimenti non ho più uno stipendio con cui pagare le bollette di questo bellissimo appartamento perché se troviamo la gravità quantistica io sono disoccupato dicevo fisica delle alte energie tornando al punto perché chiamiamo la fisica che indaga distanze piccole 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 fisica delle alte energie la ragione è presto detta papale papale quando noi vogliamo sondare con degli esperimenti scale via 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 più piccole abbiamo bisogno di esperimenti ad energie via 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 più alte vi faccio un esempio molto semplice immaginate di avere un fotone costituente quantistico fondamentale della luce un fotone ha una certa energia l'energia di un fotone dipende dalla sua frequenza la sua frequenza è legata alla sua lunghezza d'onda quindi approssimativamente l'energia di un fotone è proporzionale secondo una certa costante di proporzionalità alla sua frequenza quindi più un fotone più la frequenza di un fotone è alta più è alta la sua energia e la sua frequenza è legata all'inverso della sua lunghezza d'onda quindi un fotone ad alta frequenza oscilla su scale di lunghezza molto piccole un fotone a bassa frequenza oscilla su scale di lunghezza molto grandi in soldoni se noi vogliamo usare un fotone come probe come strumento per indagare un certo sistema è chiaro che la lunghezza d'onda del fotone debba essere almeno lunga quanto il sistema o più piccola se noi vogliamo studiare un sistema con lunghezza tipiche di un metro abbiamo bisogno di un fotone che abbia un metro di lunghezza d'onda o più piccola perché se ha un chilometro di lunghezza d'onda sostanzialmente lo schiva capite? è questo il punto abbiamo bisogno di un fotone che risolva la lunghezza del sistema senza entrare proprio nei dettagli quindi se rimpiccioliamo il sistema se vogliamo indagare scale di lunghezza più piccole abbiamo bisogno di un fotone con una lunghezza più piccola e quindi con una frequenza più alta voi lo immaginate proprio come un'onda che oscilla più è alta la frequenza più è piccola la lunghezza d'onda se la frequenza è bassa la lunghezza d'onda è grande quindi sistemi piccoli lunghezza d'onda più piccola frequenza più alta e quindi energia più alta in sostanza se vogliamo indagare scale di lunghezza sempre più piccole con i fotoni servono fotoni a energia sempre più alta e questo è un comportamento assolutamente generale quindi alte energie piccole scale basse energie grandi scale nel gergo della fisica teorica proprio ispirati per ragioni storiche alla questione dei fotoni chiamiamole grandi scale regione infrarossa della teoria perché sapete che la luce nell'infrarosso ha una bassa frequenza e una lunga lunghezza d'onda una grande lunghezza d'onda e chiamiamo la regione delle nostre teorie su scale di lunghezza molto piccole ultravioletto perché per indagarle abbiamo bisogno di particelle con tanta energia quindi una frequenza molto alta quindi luce nell'ultravioletto ovviamente parliamo di energie molto più alte di quelle tipiche della luce ultravioletta e molto più basse di quella tipica della luce infrarossa ma è un gergo quindi teorie ultraviolette e infrarosse e fin qua va tutto bene va tutto bene stiamo facendo teoria quantistica dei campi su uno spazio-tempo piatto quindi ci stiamo dimenticando dell'esistenza della gravità per il momento e capiremo come la gravità rovini tutta questa bella immagine chiara se noi vogliamo indagare la nostra teoria a scale sempre più piccole ci spariamo negli esperimenti contro particelle e energia sempre più alta alta energia verso l'ultravioletto se invece la vogliamo indagare su scale grandi spariamo particelle e energia un po' più bassa quindi con una lunghezza d'onda un pochino più grande cercando più o meno di mecciare la lunghezza d'onda le lunghezze tipiche che vogliamo indagare questo processo in linea di principio può andare avanti all'infinito possiamo indagare scale arbitrariamente piccole sparando particelle a energie arbitrariamente grandi e questo non crea alcun problema finché non accendiamo la gravità perché la gravità rovina sempre tutto e quel tipo che ti dice no 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 le cose sono un pochino più complicate di così e la ragione è molto semplice in relatività generale noi scopriamo che la gravità ha due proprietà fondamentali la prima è che può essere descritta come curvatura dello spazio-tempo quindi deformazione vera e propria dello spazio-tempo la seconda è che la gravità è una interazione estremamente promiscua nel senso che è universale può essere prodotta da qualunque distribuzione di energia quindi quando noi spariamo una particella noi stiamo deformando lo spazio-tempo perché questa particella ha una certa energia e quindi deforma lo spazio-tempo di solito in modo approssimabile a zero in modo trascurabile ma lo fa, deforma lo spazio-tempo qualunque distribuzione di energia non nulla deforma lo spazio-tempo e questo è un casino perché una deformazione dello spazio-tempo prevede anche una deformazione delle nostre nozioni di energia e di scala di lunghezza perché è ovvio la scala di lunghezza è una proprietà dello spazio-tempo ma se a questo punto lo spazio-tempo non è più un oggetto fisso ma è un oggetto che dipende dalla fisica allora anche la nozione di scala di lunghezza dipende dalla fisica capite il passaggio concettuale? prima stavamo lavorando in un contesto senza relatività generale in cui la nozione di lunghezza era messa da fuori stavamo assumendo che il lavorare ad una certa lunghezza non dipendesse dalla fisica ma fosse una scelta nostra adesso accendendo la relatività generale inserendo gli insegnamenti della relatività generale nella nostra immagine del mondo dobbiamo accettare che la lunghezza non sia una cosa che possiamo gestire da fuori che in qualche modo si intreccia le distribuzioni di energia perché proprio dipende dalla forma dello spazio-tempo che è una cosa che viene deformata dalle distribuzioni di energia quindi è chiaro la nozione di lunghezza in relatività generale diventa un oggetto dinamico della teoria non un parametro esterno che possiamo regolare come la temperatura col termostato ma un risultato che la nostra teoria sputa e questo può incasinare e di molto la nostra discussione la nostra analisi vi faccio un esempio prima di salutarvi che secondo me chiarisce benissimo questa questione immaginiamo quello che stavamo facendo prima partendo da un regime di energie dove l'effetto sullo spazio-tempo è tutto sommato trascurabile spariamo una certa particella e facciamo un esperimento a una certa lunghezza d'onda spariamo una certa lunghezza tipica che ha a che fare con la lunghezza d'onda di questa particella ne spariamo una a lunghezza un pochino a energie un pochino più alte quindi risolviamo una lunghezza un po' più piccola e poi ci diciamo no no cavolo voglio un acceleratore più grande voglio indagare lunghezze ancora più piccole e aumentiamo l'energia della particella e quindi avremo un'energia che cresce e una lunghezza che si riduce e poi diciamo no ancora ancora quindi aumentiamo ancora l'energia e quindi la lunghezza si riduce poi aumentiamo ancora l'energia e la lunghezza si riduce ancora aumentiamo ancora l'energia e la lunghezza si riduce ancora e cosa succede? succede che a un certo punto noi abbiamo un'energia molto grande confinata in uno spazio molto 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 piccolo e se seguite il canale da un po' e se non lo fate iscrivetevi istantaneamente sapete cosa questo significhi una volta che teniamo conto della fenomenologia degli effetti tipici della gravità significa buco nero facendo quella cosa apparentemente innocua che abbiamo descritto prima e tenendo conto della relatività generale a un certo punto andando su in energie quindi riducendo la scala a cui stiamo lavorando metteremo un'energia sufficientemente grande in uno spazio sufficientemente piccolo da far collassare tutto in un buco nero e a quel punto è un casino perché A significa che non possiamo indagare la fisica sotto una certa scala perché per arrivare sotto una certa scala ci serve una certa energia ma c'è un'energia limite oltre la quale iniziamo solo a produrre buchi neri e questo è quello che intendiamo quando diciamo che il regime ultravioletto della teoria quando aggiungiamo la gravità è dominato da processi che producono buchi neri ok quindi non possiamo semplicemente continuare ad indagare la fisica a lunghezze a scale di lunghezza sempre più piccole perché a un certo punto iniziamo a produrre buchi neri e quando iniziamo a produrre buchi neri è finita perché dentro i buchi neri non si può guardare perché c'è un orizzonte degli eventi e quindi quando iniziamo a produrre buchi neri non possiamo più andare a scale sempre più piccole perché cosa succede mettiamo più energia e produciamo buchi neri più grandi perché più energia metti in un buco più il buco nero è grande e quindi cosa succede noi andiamo su in energia andando su in energia la scala di lunghezza decresce 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 a un certo punto siamo in un regime in cui iniziamo a produrre buchi neri e quindi a quel punto andando su in energia i buchi neri crescono di lunghezza quindi capite c'è una lunghezza minima che noi possiamo risolvere con questo tipo di esperimenti una lunghezza minima che possiamo indagare con questo tipo di esperimenti ancora una volta finché la gravità è trascurabile aumentando l'energia dell'esperimento risolviamo scale sempre più piccole sempre più piccole sempre più piccole e quando iniziamo a produrre i buchi neri i buchi neri diventano sempre più grandi sempre più grandi sempre più grandi sempre più grandi capite quanto le cose diventino più complicate perché prima senza gravità avevamo una relazione semplicissima energie alte significa scale piccole l'ultravioletto quindi le alte energie le piccole scale non ha a che fare con l'infrarosso quindi le basse energie e le grandi scale adesso quando aggiungiamo la gravità ci arrivano in faccia due insegnamenti molto preziosi il primo è che non possiamo guardare la fisica a qualunque scala sotto una certa scala possiamo solo produrre buchi neri e dentro i buchi neri non possiamo guardare e andando su di energia produciamo buchi neri più grandi e quindi sotto una certa scala la fisica c'è proibita l'osservazione c'è proibita e due che è ancora più interessante ultravioletto e infrarosso si mischiano perché prima erano proprio disaccoppiati no? slegati basse energie infrarosso grandi scale alte energie ultravioletto piccole scale adesso abbiamo basse energie infrarosso energie intermedie ultravioletto alte energie infrarosso di nuovo perché creiamo buchi neri sempre più grandi perché ci mettiamo sempre più energia quindi non possiamo più slegare ultravioletto infrarosso e trattarli in modo distinto e questa è la ragione fondamentale per cui l'approccio canonico alle teorie effettive che sono quelle tecniche che ti permettono di dire come funziona la fisica a una certa scala integrando via tutta la fisica che avviene a scale più piccole si rompono quando aggiungiamo la gravità le nostre tecniche standard per trattare la fisica a varie scale non funzionano più perché le scale non possono più essere distinte in questo modo banale e ciò viene proprio dal fatto che la nozione di scala non sia più un parametro esterno ma una questione interna alla teoria e qui sta il cuore della Swampland di cui ho parlato in altri video la Swampland vuole proprio prendere le tecniche vecchie e adattarle raffinarle migliorarle per farle funzionare in un contesto in cui esiste anche la gravità come ad esempio il nostro universo la nostra realtà io lo so che questa questione non è semplicissima da intendere soprattutto per le proprietà bizzarre che ha lo spazio-tempo e quindi vi consiglio caldamente di recuperare il video di settimana scorsa in cui abbiamo un po' chiarito come la struttura dello spazio-tempo e quindi la gravità in soldoni determini i rapporti causa-effetto tra gli eventi e vi assicuro che ne vediamo delle belle in quel video quindi recuperatelo e ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto cronauti